In avvio di gara ci ha provato subito il Campobasso a segnare, poi però voi avete risposto colpo su colpo, siete stati molto pericolosi. Intanto complimenti al Campobasso, squadra forte, ma oggi ho trovato una squadra altrettanto forte che siamo noi. Io ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto una partita importante. Ovviamente abbiamo tenuto botta a una squadra forte, colpo su colpo, abbiamo fatto uno dei primi tempi più belli della mia gestione. Però sapevamo che alla lunga, magari pure a livello fisico, qualcuno crollava, però abbiamo fatto bene. Ecco anche a livello forse di motivazioni, loro sicuramente molto motivati, però anche voi nel secondo tempo poi magari si è giocato anche poco dopo il gol del vantaggio molisano. Ad un certo punto della gara eravamo padroni del campo in assoluto, anzi l'ho visto proprio impauriti, l'ho visto proprio queste palle lunghe su Dinarto. Ci hanno fatto gol, forse ce li siamo fatti pure da sole, però ti posso assicurare, non abbiamo avuto paura del Campobasso, l'abbiamo rispettato, l'abbiamo persa, però devo fare i complimenti ai ragazzi. Oggi abbiamo fatto una grande gara e siamo usciti, secondo me, dal campo e loro devono sentire all'allenatore che gli dice queste cose, non ad altre persone. Oggi hanno dato il 110%, io l'ho visto, tutti, tutti, perciò non bisogna attaccare a questi ragazzi che precedente queste due gare che abbiamo perso hanno fatto sei partite per uscire dalle sabbie mobili, incredibile. Lottando, sudando, facendo risultati, vincendo quattro partite, pareggiando a San Benedetto, siamo usciti allo stadio a testa alta, come lo siamo usciti adesso. E io gli faccio i complimenti, perché oggi abbiamo fatto una sottosa calcola, quelle che gli avevo detto. Sullo 0-0, nella parte finale del primo tempo, da rivedere quel tocco con un braccio di Bonacchi, calcio di rigore? Ha detto che era troppo vicino, però c'è rigore, è un cross, lo prende con la mano, il copro di testa di Esposito sulla linea di porta. Forse loro all'inizio ci hanno un po' impensierito così, ma sempre con questo lancio lungo, ma a livello di gioco siamo stati superiori, mi permette. Ecco, a questo punto, insomma, non voglio essere noioso, però la matematica dice che c'è ancora uno spiraglio per ragguantare questi play-off. Ce l'andiamo a giocare, assolutamente, a me dispiace, ma non è questa di oggi la gara che magari non possiamo, non abbiamo raggiunto qualcosa che magari sognavamo tutti quanti. Ma io vado sempre un po' a retroso e penso a quando sono arrivato come eravamo e cosa si diceva. Perciò l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, perché una squadra del genere non poteva assolutamente andare nei play-out. Però c'è la piccola speranza, ci dobbiamo giocare perché dobbiamo onorare come abbiamo fatto oggi, come abbiamo sempre fatto. E vediamo un attimino domenica al 95esimo cosa succede. Luisa, una cosa molto bella alla fine è stato l'applauso da parte della Curva Volpi, non soltanto a voi, ma anche a chi è tornato in Lega Pro, cioè al campo basso. Giusto, ha fatto un campionato splendido, ma direi pure l'Aquila dietro ha tenuto botta fino alla fine. Si aspettava questo 0-0 dell'Aquila? No, sinceramente, beh, il Termoli non ha ben battuto, il Termoli è una buona squadra. Però, vi ripeto, complimenti a loro perché poi, ecco, alla lunga, forse, io dico sempre chi vince ha meritato. C'è ancora una partita da giocare, non le chiedo il suo futuro immediato, però lei come si è trovato qui a Chieti? Una riconferma, come la vedrebbe? Io mi sono trovato bene, ho avuto disponibilità da parte di tutti, all'inizio che sono arrivato la gente mi fermava per strada, addirittura dopo Fano con 100 tifosi fuori allo stadio. Ah, dove avete perso 5 a 1? Bravo, dopo aver perso 5 a 1 mi hanno voluto parlare, io ho promesso che avrei tirato fuori da lì, poi abbiamo perso domenica a Montorodonto senza magari parlare di quella di oggi, perché oggi giustamente giochiamo contro una squadra importante, però l'abbiamo onorata, ma io gli avevo detto che avrei tirato fuori gli attributi a questi ragazzi, probabilmente ce l'avevano, bisognava solo un pochettino tirarli fuori e l'hanno tirati facendo 6 risultati di fila, vincendo 4 cari, per oggi andano 2. Perciò io della conferma, della riconferma, non è che ne devo parlare, io sono stato bene e credo di aver fatto bene, però adesso chiudiamo la stagione, andiamo a Matese a prenderci questi tre punti, perché veniamo da due sconvitte consecutive, cose che io non avevo mai fatto, da quando sono arrivato, però faccio complimenti ai ragazzi che oggi abbiamo fatto una buona gara e mi fa piacere che l'allenatore del campo basso mi abbia fatto i complimenti a fine gara, ci siamo fatti complimenti e ricicuramenti.